buongiorno a tutti piccola recensione del mio telescopio uno sky watcher 100 edi un doppietto semi apocromatico di casa sky watcher dotato di vetri shot quindi non perfettamente apo ma corretto solo su due lunghezze d'onda invece che tutte e tre come gli apocromatici veri e propri questo in particolare è ottimizzato per gli appassionanti del settore è stato ottimizzato da davide del prato della torre del sole di brembate annerendo il tubo pulendo alla perfezione il doppietto dotando di vellutino non so se si vede ma si dovrebbe capire tutto il paraluce e perfettamente collimato al banco ottico tant'è che su saturno tiene i 300 ingrandimenti ancora con una relativa nitidezza per quello che si può parlare di nitidezza a questi ingrandimenti e a questi livelli di prezzo davide ha anche sistemato perfettamente il fochereggiatore con la sua demoltiplica e niente è uno strumento che consiglio vivamente per un astrofilo di medio livello ma anche esperto secondo me ha un prezzo prestazioni imbattibile soprattutto se viene ottimizzato poi lo strumento è quello che praticamente gira da anni alla penultima release quello non ancora con la barra a coda di rondine verde questo a parte le ottimizzazioni che ho elencato a un cercatore della orion il famoso raci ad immagine raddrizzata bene ne ho avuti tantissimi cinque sei forse sette questo della orion ha probabilmente un controllo qualità o non so uscito bene ma è nettamente superiore agli altri ai classici sky watcher è molto più nitido non ha sbavature del del crocicchio ha veramente una qualità ottica che è immensamente superiore agli sky watcher poi come vedete montato su una semplice montatura az4 che per quello che faccio io ovvero mordifuggi planetario mezz'ora un'oretta nebulosa d'orione doppie nella polare doppie in orione osservazioni di rapaci e ultimamente mi dedico quando c'è la luna piena all'ascensione dei rondoni attraverso il disco lunare mentre dormono dato che i rondoni dormono in volo di notte e voi puntate il telescopio sul disco lunare che vi permette un ingrandimento da occupare tutto il campo visivo e vedrete che in un determinato periodo di tempo due tre quattro rondoni ascenderanno sul disco lunare stando in sospensione mentre dormono con una parte del di un emisfero del cervello adibita al riposo e al sonno notturno capitolo oculare allora non ascoltate i proclami pubblicitari non ascoltate quello che vi dicono i soloni sui forum ma ascoltate le esperienze di chi la strumentazione la usa sul campo allora anche la z piccolo inciso anche la z4 arriva con il grasso sinta un'assoluta schifezza una colla praticamente io l'ho pulita tutta e lubrificata con grasso al teflon ecco qui questo è il risultato perfettamente bilanciata con un dito va tranquillamente allo zenith si manovra con un dito e smorza le vibrazioni diciamo a ingrandimenti medi intorno ai due secondi un secondo ad ingrandimenti bassi 50 60 mentre ad alti ingrandimenti oltre i 200 siamo sui tre secondi per uno che fa visuale con un attimo di malizia va più che bene poi chi ci monta il 120 ed i su questa montatura dicendo che riesce tutte 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 balle tutte balle poi soprattutto non ascoltate chi è sponsorizzato dalla casa che vi dice ad esempio che il 120 ed i ha un acclimatamento praticamente istantaneo quando lo mettete fuori tutte balle questo d'inverno se volete delle immagini nitide ci vuole almeno almeno mezz'ora figuratevi un 120 d che ha un volume d'aria nel tubo nettamente superiore questi sono prezzolati pagati è logico che rispetto a un tripletto a tempi immensamente inferiore un tripletto magari ci vogliono ci vuole un paio d'ore perché non pensate di mettere fuori il tripletto e poi dopo un'ora incominciare a fotografare o ad osservare torniamo al capitolo oculari questi sono i cloni tmb che io i famosi planetari no economici mi sembra che adesso stiano intorno ai 40 45 euro allora fanno caccare sono dei super plus alla fin fine schema ottico è sempre è sempre il solito allora il peggiore ovviamente è l'originale il tmb pessimo giallo 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 polveroso dentro è arrivato polveroso una roba oscena andando avanti i cloni hanno superato diciamo l'originale però lo sky watcher tra i cloni il 4 è forse il peggiore trattamento antiriflesso inesistente nitidezza più che sufficiente ma per il resto niente di che l'orio